Intro Ciao a tutti ragazzi io sono Tassi e benvenuti sul canale dei Gigi Allora oggi faremo un nuovo tutorial sulla Pixemon Precisamente un tutorial su come installare i server della Pixemon Questo tutorial è stato richiesto da molte persone Perché in effetti dalla 1.5 è un po' difficile installare Minecraft Soprattutto per la versione dei server Quindi ve lo spiegherò in pochi passi E questa versione che useremo la 1.6.4 Ma varrà per tutte le altre versioni di Minecraft E per tutte le altre mod esistenti Quindi per tutte le versioni dei server Tranquillamente fate questo procedimento Semplicemente utilizzerete un diverso tipo di forge A seconda di quello che usate Ovvero 1.6.4, 1.7.2 oppure 1.7.10 Allora iniziamo Prima di tutto dovete avere forge Quindi dovete andare sul sito di forge Io sono nella lista delle build Ovvero delle versioni uscite per forge E questa lista si può trovare a questo indirizzo Ovvero files.minecraftforge.net Vi metterò il link tutto in descrizione Quindi troverete tutti lì dentro Senza problemi Perfetto Come oggetto sceleremo la 1.6.4 Quindi scendiamo giù Perfetto E sceleremo l'ultima versione attualmente Della 1.6.4 Che è la 9.11.1.9.6.5 Come vedete Minecraft 1.6.4 E semplicemente Scarichiamo L'installer Ok Scarichiamo l'installer Tranquillamente Perfetto Aspettiamo che finisca E quindi cosa facciamo Semplicemente facciamo Appena finisce Vediamo un po' Se ci mette meno tempo Del solito Ok Clicchiamo una volta Si aprirà un piccolo menu Allora Andiamo lì il tempo Un attimo che si apre Ok Si dice Mod system installer Ok Allora si servirà a installare Il server Cosa dobbiamo fare Dobbiamo scegliere una cartella Dove installare il server In questo caso Andremo per esempio Su Facciamo una cartella sul desktop Chiamato server per esempio Ok Questa cartella adesso La selezioniamo Semplicemente andando qui sopra Andiamo su desktop Scegliamo la cartella server Che è questa qua Facciamo apri Facciamo install server Facciamo ok Perfetto Adesso scaricherà La versione di Minecraft Del server Forge E tutte le librerie Che saranno necessarie Affinché Possiamo avviare Un server Ci vorrà più o meno Dai Due Fino ai dieci minuti Secondo la vostra connessione Fate caso che più o meno Vi scaricherà almeno Quaranta mega di Di roba Quindi non è proprio Poca roba Insomma Ora abbiamo il tempo che Finisca di Amparcare tutto Di scaricare tutto ciò che ci serve Nel frattempo Andiamo Nella versione Che abbiamo Ok Mi fate buca Finito Vedete c'è scaricato Libraries Minecraft serve 164 E poi anche Il minecraft forge 164 Vabbè Pregandolo Questo non ci interessa Comunque Ok Possiamo Assicuramente anche Modificare questo Nominare questo Forge Chiamandolo per esempio Server Server Possiamo chiamarlo Server Ok perfetto Molto più semplice Da startare Ok Adesso cosa facciamo Dobbiamo andare Dove abbiamo installato La mod della pixelmon Essenzialmente In Instances Questo caso abbiamo Io ho la pixelmon Installata nella cartella pixelmon E Qui dentro Dobbiamo copiare Se vogliamo La cartella mods Facendo copia Ok E anche la cartella Config Perfetto Perché i config E le mod Possiamo copiare Direttamente dal client Perché dalla versione Nuova di minecraft Della 1.5 Anzi Pregnate Della 1.3 I config Delle client Sono gli stessi Del server Quindi semplicemente Se il modpack Vi funziona In single player Potrete giocarlo In multiplayer Senza problemi Utilizzando le stesse Config Perfetto Abbiamo config E mods Della 1.6.4 Abbiamo tutto pronto Adesso diceva soltanto Startare il server Di minecraft Abbiamo due modi A seconda se siamo più esperti Oppure non lo siamo Se Non si ha Partiamo prima Se non siamo più esperti Non siamo più esperti Semplicemente basta Avviare Cliccando due volte Il server E vi apparirà Dopo un po' Dopo aver caricato Vari file Come adesso sto caricando I vari file di forge Riuscirà la console Di minecraft Che vi dirà Che sta startando Con Tot ram Minecraft Sta startando Con 1024 Vi dirà Che sta preparando Il world Tutto quanto Ci dice la porta Su cui È avviato E tutto quanto Ora speriamo un attimo Che finisca di caricare Il mondo Nel frattempo Avviamo la pixelmon Perfetto Facciamo multi mc Ok Perfetto Ora quasi finito Di caricare il mondo Avviamo la pixelmon Nel mentre Così facciamo anche Un testing dopo Per farvi vedere Che funziona Tutto tranquillamente Ok Perfetto Dawn Quando uscirà Dawn Vuol dire che Ha caricato tutto Senza problemi E che il mondo È on Quindi possiamo Direttamente Andarci Senza problemi Perfetto Adesso però Vi mostro la versione Un po' più Da esperti Dove potete vedere Molte più cose Utorizzando Cmd Di 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 un server Se usate una vps Oppure comunque Una qualsiasi console Molto più Con molte più informazioni Rispetto alla console Di minecraft standard Quindi cosa facciamo Adesso Non chiudete mai da x Ma fate semplicemente Slash O semplicemente Stop Vi servirà i chunk E automaticamente Poi vi chiuderà il server Perfetto Ok Cosa andremo a fare Andremo a fare Un nuovo file In txt Per al momento Perfetto E andremo a inserire Un Una stringa Stringa che troverò Da qualche parte Dovrei avere una stringa Da qualche parte Se siamo fortunati Ce l'abbiamo Devo controllare bene Dove ce l'ho Ok Facciamo sufficiente così Andiamo a cercarla velocemente Ok Se sufficiente andiamo su Minecraft Punto net Ok E in download Abbiamo la stringa Che ci servirà Per far strattare Minecraft Che è questa qui Ok No GUI Non la diseriamo Perché significa Che non ci darà la GUI E invece quello che vogliamo È proprio quella Ok Questa stringa Allora questa stringata Cos'è formata È formata da Start Minimo E start Massimo Ok Start minimo Significa che Il server di Minecraft Verrà lanciato Con un mega di ram E un Può arrivare Massimo Mega di ram Scusate Non un mega di ram Con un giga di ram E può arrivare Massimo un giga di ram Perfetto Possiamo cambiare Queste impostazioni Selezionando per esempio Cambiando questo numero 1024 significa 1 giga Possiamo scrivere 1048 Vogliamo per esempio 2 giga Questo caso Ne va bene 1024 Ok Avvieremo Utilizzando Jar Ovvero Java E il nome del Il nome del Del jar Perfetto Attivare Server Perfetto Facciamo Chiudi E salviamo Ok Con questo Si programma Per esempio Se siete Zip O se avete Automaticamente Le estensioni Già attivate Sul desktop Cambiate L'estensione Di questo file Dove 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 L'ho messo Non lo trovo Più Perfetto L'ho messo Sul desktop Vero Perfetto L'ho perso Ragazzi Ok Non ho Un documento Di testo Perfetto Cambiamo Il suo nome Lo chiamiamo Start Ok E andiamo Con qualsiasi Programma Per anzippare La roba Per esempio Se siete Zip Oppure WeRar Insomma Quello che volete Facciamo così Andiamo con Se siete Zip Che è più Semplice Ok O comunque Se avete Già Le estensioni Dei file E cambiate L'estensione Da Txt In Bat Ok Questa cosa È importante Perché così Diventa Un'eseguibile E possiamo Utilizzare Questo Eseguibile Come Un'eseguibile Essenzialmente Ovvero Avvierà Utilizzando Quella stringa Un Un file In questo caso Il nostro server Ora Andiamo in Desktop Andiamo su Server Ok Eccolo qua Start Punto Txt Facciamo Rinomina Start Punto E Ok Rinomina Start Punto Bat Perfetto Ok Vedete Cambierà Anche Icona Perché È Un'eseguibile Avviamo Start Punto Bat Perfetto Vedete Adesso Ci dirà Che non Abbiamo Abbastanza Ram Perché Come Vedete Abbiamo Usato Usiamo 2 GB Di Minecraft E Quindi Non Abbiamo Abbastanza Ram Quindi Cosa Facciamo Adesso L'avviamo Con 256 MB Di Ram Che Comunque È Diciamo Che È Meglio Utilizzare 1 GB Però Per fare Detesting Vedete Potete Utilizzare Anche Questo Po Di Ram Ora Come Ma Non Me Avvia Perché Probabilmente Ok Ho sbagliato Ho fatto Il controllo Di Start Ok Speriamo Questo E Serve Punto Jar Si Chiamo Così Sì Ok Jar Serve Punto Jar Ok Dovrebbe Andare Ho Abbastanza Ram Libera Spero Di Sì In Effetti Sì Disponibile In effetti Dovrebbe Andare Ok Ragazzi Arrivo Subitissimo Ok Ragazzi Mi ho dimenticato Una cosa In effetti Ora L'ho Scoperto E Sì Ovvero Ho mancato Una parte Della stringa E Questa Parte Della stringa E Questo Ok Java Ok Perché Non sapeva Che programma Usare Utilizzare In effetti E Questa Stringa Ok Comunque Vi lascerò Direttamente Il file In descrizione Con Guarda La quantità Di RAM Che volete Utilizzare Perfetto Avviamo Adesso Lo start Vedete Che adesso Ci dirà Che sta avviando Il server Di minecraft Datele Giusto Qualche Secondo Ok Sta avviando Prima di tutto Forge Perché è la parte Che più Mi interessa Per iniziare Tutto E adesso Stare caricando Le varie mod Che fanno Parte Del server Quindi del pack Ok Come vedete Ci dirà Ci darà Sempre La gui Se vogliamo Possiamo Anche Toglierla Comunque Se state Scrivendo No gui Non uscirà Questa gui E Dobbiamo Giusto Dargli il tempo Di Fare Di formare Il world Come ho fatto Prima Uscirà Entrambe le parti Scritto Don Quando finirà Il world Vedete Sto preparando Il world Ok Ha finito Perfetto Ci possiamo Collegare Tranquillamente Facendo Localhost Perché significa Che stiamo Collegando Il nostro Server locale Ok E come vedete Il server è up Possiamo Entrarci Tranquillamente Ci dirà Di scegliere Il pokemon E Tadan Guarda Il tempo Che Carica Minecraft Avremo la possibilità Di scegliere Il pokemon Come il normale Serve pixemon E Questo tutorial Va bene Per qualsiasi Tipo Di mod Qualsiasi Tipo Di forge Quindi Non preoccupatevi Scegliete Un pokemon Insomma Funziona Tutto Quanto Ora sto lagando Perché in effetti Sto utilizzando Tantissima ram Quindi ragazzi Dall'istruttore Di tutto Spero che questo tutorial Sia stato utile Se avete domande Tutto quanto Fatemelo sapere Qui sotto Nei commenti Facciamo stoppare Il server Tranquillamente E Se avete altre domande Fatemelo qui sotto Ringrazio gg Per avermi dato La possibilità Di poter caricare Il video Su questo canale E vi ricordo Se volete Di iscrivervi Anche al canale Di gg Quindi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao ragazzi Ciao ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti